buonasera benvenuti a c'è posta per zam zam chiocciolamoto.it è l'indirizzo email dove mandare i vostri quesiti le vostre richieste le vostre considerazioni sul motociclismo da corsa quindi moto gp moto 2 125 superbike tutto quanto riguarda le competizioni a due ruote domenica prossima finalmente si corre un altro gran premio della moto gp terzo appuntamento stagionale quello del portogallo sulla pista dell'estoril dove dal 2008 vince in moto gp org lorenzo quindi org lorenzo è sicuramente il grande favorito per questo nuovo appuntamento della moto gp e comunque quest'anno gli avversari saranno probabilmente più agguerriti che in passato ci sarà uno stoner che vorrà riprendersi dopo lo zero di jerez ci sarà pedrosa che speriamo sia in forma dopo l'operazione l'ennesima operazione al braccio sinistro e ci saranno gli altri piloti di amaci speriamo che ci sia anche valentino rossi con la ducati prima di partire fatemi mandare un grosso abbraccio a yuki takashi che purtroppo domenica scorsa ha perso suo fratello suo fratello di 23 anni in un incidente stradale il fratello di yuki stava guidando una macchina si è schiantato purtroppo contro un camion aveva fatto la sua apparizione anche nel mondiale come wild card l'anno scorso nel gran premio del giappone quindi sicuramente un bruttissimo lutto per yuki yuki che è un carissimo ragazzo una bravissima persona come sapete corre in moto 2 con il team gresini una persona che apprezzo molto quindi insomma sono veramente commosso anch'io addolorato da questo purtroppo da questo terribile incidente cominciamo con le mele parto da alcune mail che sono arrivate settimana scorsa che avevo lasciato indietro la settimana scorsa una riva da daniele quesiti vari dice avrei alcune domande rapporti circa la tecnica della moto gp a che tipo di benzina e grado di ottano hanno le benzine dei motori della moto gp allora per regolamento le benzine della moto gp dovrebbero uso il condizionale perché qualche dubbio c'è dovrebbero essere le benzine della della pompa quindi le tradizionali benzine che si comprano dal distributore in realtà hanno qualche numero di ottano in più cioè c'è un numero di ottano un po più alto però diciamo che grosso modo sono assimilabili alle benzine che usiamo tutti i giorni nei motori tradizionali poi il fornitore unico no ogni costruttore ogni casa ogni team può scegliere che tipo di benzina utilizzare poi mi spieghi quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei motori screamer e big bang su curva di coppia potenza e consumo allora lo screamer che è quello diciamo a scoppi tradizionali è sicuramente più potente è molto più potente e ha una coppia più elevata rispetto al big bang consuma un po di più ma intervenendo con l'elettronica si può addirittura avere un consumo simile a quello del big bang o addirittura migliore quindi sulla carta lo screamer dovrebbe essere più competitivo del big bang però in realtà il caso della ducati è abbastanza eclatante i costruttori preferiscono cioè i piloti preferiscono il big bang perché è più gestibile si riesce a guidare meglio infine mi sapresti dire se è vero che vengono utilizzati dei sistemi diagnostici basati sull'analisi dei parametri di scintilla in candela per ottimizzare i consumi e la qualità della combustione in camera di scoppio come alcuni motori di formula 1 a quest'ultima domanda sinceramente non so rispondere credo di sì è la mia però una supposizione ma al prossimo gran premio in portogallo chiederò a un tecnico della moto gp mi farò spiegare anche questo aspetto e quindi caro daniele nella prossima puntata ti risponderò con maggiore precisione passiamo un'altra mail sempre della settimana scorsa questa di lorenzo fa riferimento al mondiale superbike secondo me il mondiale lo vince cieca scritto cieca proprio come mosca cieca insomma direi che caro lorenzo devi imparare un po i nomi dei piloti biaggi che andrebbe scritto con due g starà sempre dietro perché la ducati in superbike ha sempre dominato e adesso che nelle mani di cieca dominerà ancora questa è l'opinione di lorenzo sicuramente in questo momento l'accoppiata cieca ducati sta andando molto forte tra l'altro abbiamo sentito ci sono già delle polemiche sui presunti vantaggi regolamentari per la ducati che sappiamo adesso un bicilindrico di 1200 cm cubi contro i 1000 cm cubi delle quattro cilindri il regolamento non è cambiato dall'anno scorso ma l'anno scorso la ducati non vinceva e quindi nessuno se ne era lamentato adesso che la ducati vince naturalmente gli altri costruttori cominciano a lamentarsi io continuo a pensare che la coppia viaggi aprilio alla fine è più competitiva di quella ducati cieca però in questo momento obiettivamente cieca sta andando decisamente più forte quindi si merita tutto il vantaggio che ha in classifica generale questa email arriva da Emanuele superbike forever quindi questo sicuramente un appassionato della superbike la superbike è letteralmente la categoria migliore la griglia è molto più piena la competizione non ha neanche il minimo paragone con la moto gp è molto più agguerrita e spettacolare e poi chi lo dice che il prototipo è migliore i piloti migliori sono in gp per me il campionato migliore è quello che offre più spettacoli la superbike ne ha da vendere ciao da Emanuele allora non sono d'accordo con Emanuele io ritengo che la moto gp sia la categoria di riferimento della del motociclismo la superbike è una categoria bellissima che mi piace la seguo con attenzione quando posso quando non ci sono le concomitanze con i gran premi però è a un livello leggermente inferiore rispetto alla moto gp sul fatto della spettacolarità è vero che spesso ma non sempre le gare della superbike sono più emozionanti da vedere anche se nelle ultime gare abbiamo visto comunque un dominio di un pilota quasi sempre cieca che insomma ha un po ucciso la lotta per la prima posizione però complessivamente le gare sono piacevoli da vedere i piloti migliori però sono sicuramente in moto gp questo è un dato di fatto basta vedere la lista dei campioni del mondo nella moto gp ci sono 17 piloti 14 hanno vinto almeno un mondiale nella superbike non c'è non c'è non ci sono così tanti protagonisti campioni del mondo piloti come pedrosa stoner lorenzo dovizioso rossi naturalmente simoncelli sono tutti piloti spisa naturalmente che viene dalla superbike ha vinto il mondiale sono tutti piloti che sono convinto passassero oggi in superbike vincerebbero a mani basse questa è la mia opinione ma noi la pensa diversamente comunque continuo a dire c'è spazio per tutti e due i campionati andrebbe un po rivisti regolamenti sia da una parte sia dall'altra ma continua esserci spazio per tutti e due campionati speriamo che vadano avanti a lungo perché il motociclismo comunque è l'unica categoria dei motori che ha due campionati così importanti come la moto gp e la superbike non succede ad esempio nella formula 1 andiamo avanti con le mail queste sono arrivate invece questa questa settimana sono più rivolte alla moto gp questo da francesco ciao zam una volta hai detto che pedrosa è più forte di lorenzo ne sei sempre convinto non lo so sinceramente se pedrosa è più forte di lorenzo io ritengo pedrosa un grandissimo pilota un pilota che in moto gp ha vinto meno di di quanto meritasse prima per problemi tecnici poi anche per difficoltà fisiche perché danni purtroppo ha avuto un sacco di incidenti nella sua carriera poi anche forse mentalmente non era a livello di lorenzo lorenzo sicuramente mentalmente più forte ma come capacità di guida io dico che pedrosa è perlomeno a livello di lorenzo non so se sia più forte ma lo ritengo perlomeno sullo stesso piano di lorenzo quest'anno con l'arrivo di stoner in squadra danni è molto più motivato e molto molto più pronto fin dalle prime battute fin dalle prove libere fin dalle prove invernali è stato sempre lì davanti è stato sempre in grado di tenere il passo di stoner che sicuramente alzato l'asticella alzato il livello della moto gp e della honda e pedrosa è sempre stato lì purtroppo è stato condizionato ancora una volta da problemi fisici abbiamo avuto abbiamo visto che sia in catar sia agli rets la sua gara è stata condizionata da questo problema il braccio sinistro adesso il braccio sinistro è stato operato è stata rimossa la placca sono state rimosse le viti e speriamo che pedrosa sia veramente nelle condizioni di spingere al cento per cento per tutta la gara se così sarà io sono convinto che pedrosa sarà un avversario ostico per lorenzo ma non solo sarà uno dei favoriti per il mondiale questa è la mia opinione non so come la pensi tu francesco fammi sapere la tua prima di chiudere prima di fermarci un attimo leggo un'altra email questa da federico ciao valentino e aiden hanno già provato la ducati mille del 2012 lo potevano fare e perché le case giapponese ancora non hanno girato questa è la domanda di federico allora federico sì naturalmente valentino e aiden potevano provare la mille proprio perché l'anno prossimo ci sarà il cambio regolamentare la la dorna assieme alla fim ha concesso una deroga di otto giornate di prova per le case ufficiali cioè per i piloti ufficiali per le case ufficiali e quindi valentino e aiden hanno sfruttato due di queste giornate a a disposizione della ducati le case giapponesi in realtà hanno già girato la onda ha girato sia a moteghi sia su zucca con i collaboratori e presto farà provare la nuova mille ai due piloti stoner e pedrosa due piloti ufficiali che hanno già il contratto per il 2012 infatti simoncelli e dovizioso che sono gli altri due piloti ufficiali della onda ancora non hanno un contratto per il 2012 mentre stoner e pedrosa ce l'hanno quindi a breve proveranno proveranno la la mille forse in malesia o forse al mugello il giorno dopo il gran premio quindi nella prima domenica di luglio dove ci sarà anche la yamaha che proverà la nuova mille sarà lorenzo naturalmente a provare la nuova mille ma comunque questo per dire che le giapponesi non sono così indietro rispetto alla ducati hanno anche loro già approvato la moto per l'anno prossimo e stanno lavorando per portarla a essere al più presto competitiva ci fermiamo un attimo poi ci ritroviamo qui a c'è posta per zan che ci fermiamo un attimo poi ci fermiamo un attimo poi ci fermiamo il fatto che c'è posta per